ma buonasera ragazzi e bentornati in questo nuovo video video veloce perché a quanto pare c'è qualcuno che continua a dire la sua mettiamola così nei commenti convinto di aver ragione ragazzi l'ultima scusa di sale sul fatto è ma brutale scherza con i suoi amici fa black humor le cose le minacce le dice tanto per ti ma fa così tanto per di ragazzi allora il codice penale non è che a parentesi sotto c'è un paragrafetto con l'asterisco che dice eh no però il reato non vale se viene fatto se uno dice ah ma lo sto a fare per gioco no e ve lo dico per esperienza diretta che anche al telefono dita una persona te do fuoco te sfiguro eh te mando all'altro mondo eccetera eccetera è comunque passabile di denuncia comunque puoi essere denunciato dovrai comparire davanti a un giudice e poi al giudice dirai eh ma l'ho detto tanto per di poi dopo al giudice che dice sì questa è un coglione lasciamolo perdere famo la multa e basta come dopo al giudice che dice sì tu hai detto tanto per di però quell'altro è stato tre anni con l'ansia tre anni con la paura è dovuto andare a un psicologo perché c'era poi l'ascita di casa quindi non me ne frega un cazzo di fare da uno a tre anni di carcere e questo non lo dico io lo dice la legge ok non è che io me so svegliato stamattina e me so improvvisato avvocato cioè so cose che so purtroppo per esperienza diretta quindi andiamo oltre e non sussiste il discorso eh ma lo dice per gioco eh ma è humor non voglio un cazzo se io minaccio una persona anche per humor anche per anche per magari in un momento di rabbia lo dico tanto per dire se quella persona c'è le prove mi può andare a denunciare io poi devo comparire avanti a un giudice a cercare fargli e spiegare a cercare fargli che vi aggiunge che non avrei fatto veramente quello che ho fatto ma se tanto meno tanto vado una parentesi quante donne hanno subito delle violenze da gente che eh vabbè ma tanto lo diceva non pensavo che lo faceva ok chiudo la parentesi prima cosa smontata raga accendete i neuroni cercate di capire quello che sto a dire eh prima scusate l'eh vabbè ma le amici eh vabbè ma lo dice tanto per dire no ma eh ma gioca vuol di incazzo no cioè di fronte alla legge non so giustificazioni valide secondo voi guardate un po' qui questa è la pagina delle linee guida per la comunità di Twitch questi sono i regolamenti di Twitch non l'ho fatti io non l'ho scritti io ok questi sono i regolamenti che Twitch stessa vuole rispettare quando strimmate sulla loro cazzo di piattaforma andiamo a leggere insieme le fasi più importanti violenza e minacce gli atti e le minacce di violenza sono controproducenti per la promozione di una community istituita inclusiva e amichevole la violenza su Twitch e qui non è che dice la violenza vera perché se stai a giocarlo poi fa non è che qui c'è fra parentesi no ma se dici che lo fai per scherzo lo poi fa la violenza su Twitch viene presa molto seriamente col cazzo mi pare proprio che no ed è soggetta a una politica di tolleranza zero a meno che non ti chiami blu che prevede la sospensione a tempo indeterminato di tutti tutti gli account coinvolti su Twitch e non l'ho scritta io questa ragazzi ve la potete andando a leggere pure da soli per esempio non è possibile mostrare o promuovere tentativi o minacce di ferire o uccidere eppure io ho sentito uno streamer dire che sparava in testa ai vecchi tentativi o minacce di colpire con violazioni informatiche non ci interessa l'ho evidenziato ma non ci interessa l'uso di armi per minacciare intimidire ferire o uccidere o l'uso no però io ho sentito dire a qualcuno gli sparo con una glocca in testa da qualcuno che probabilmente non conosco ma è altamente possibile che la glocca l'abbia vista soltanto su Call of Duty incoraggiamento a partecipare ad atti che potrebbero danneggiare altre persone e io ho sentito una frase tipo questa la faccio sgozzar da zano e non l'ho detta io in circostanze straordinarie ok in circostanze straordinarie questo è importante potremmo sospendere gli account in modo preventivo nel caso ritenessimo che l'uso di Twitch da parte di un individuo rappresenta una minaccia concreta di incitamento alla violenza quando io dico gli sparo un testa ai vecchi o quello gli sparo a quello gli spezzo le gambe a quello gli sparo un testa a quell'altra la sgozzo si chiama incitamento alla violenza poi vabbè quando avvalutiamo i rischi di eventuali danni consideriamo l'influenza degli individui livello di incoscienza dei loro comportamenti precedenti ok questo non l'ho scritto io sto regolamento sono severamente proibiti i contenuti e le loro attività che minacciano promuovono la violenza promuovere la violenza vuol dire a quello gli sparo un testa a quello gli metto un proiettile con la glocca a quello gli rompo le gambe a quello gli rompo le ginocchia quello vuol dire promuovere la violenza ok ed è incitamento alla violenza terrorismo ed estremismo violento il terrorismo ed estremismo violento promuovono violenza illegale o diffondono messaggi di intolleranza ok e io qui mi rivolgo più alla chat dei fan dei twitch che mandano disegni in codice asci del nazismo e roba così twitch non permette contenuti che raffigurano celebrano incoraggiano sostengono il terrorismo o individui e atti estremisti violenti ok quindi quando scorrono con l'immagine della chat di blu ma tecnicamente lui ci dovrebbe far qualcosa sono inclusi la minaccia di o l'incoraggiamento a commettere atti che comporterebbero gravi danni fisici o una significativa distruzione di proprietà tipo sgorso una spacco le ginocchia una spacco le gambe a questo a quella a quell'altro ok indifferentemente qui non c'è scritto se siete amici lo potete fa ok qui non trovo scritto se lo fate fra amici potete fa come cazzo le vale non c'è scritto ok perfetto non c'è scritto in piccolino un paragrafino o ecco è giustificato quando lo fate fra amici è giustificato se lo fate con persone che conoscete ok quindi se chiudo una volta per tutte le scuse che state a trovare stupide sul fatto eh vabbè ma blu fa black humor ah vabbè ma bisogna avere un'apertura mentale per capire che blu fa queste cose perché le può fa ma che cazzo stai a dire ma che cazzo ve state a inventare queste sono le linee guida di twitch dove tutti gli streamer che streamano su twitch cioè che tutti devono rispettare che tutti content credo su twitch devono rispettare e mi sembra che il vostro carissimo blu stia violando questo regolamento e non c'è scritto che fra amici si può fare non c'è scritto che con le persone che conoscete lo potete fa c'è scritto che non si può minacciare o promuovere o incitare alla violenza neanche fra amici perché non c'è scritto quindi basta mi sono rotto il cazzo volete giustificare una persona perché la seguite fatelo ma cercate almeno di provare un argomento che vi dia ragione perché il discorso è su amici è ma lo fa con gli amici è però le minacce le ha fatte tanto per dire lui dice tanto per dire non lo fa non vuol dire un cazzo non vuol dire un cazzo non vuol dire un cazzo perché io posso minacciare una persona ma la legge non sa se lo faccio o meno comunque vado denunciato detto questo vi saluto questo è proprio il quadretto di quello che voglio far capire ma tanto non lo capirete io vi saluto ciao ragazzi ciao a tutti e buon gioco